Un progetto rivoluzionario ed innovativo che porti allo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo interno. Hanno le idee chiare i sindaci di Sulmone e Roccaraso che per la prima volta negli ultimi decenni si sono incontrati per stilare le basi di un progetto che unisca Valle Peligna, Alto Sangro e territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Servizi, programmazione turistica, collegamenti in un'ottica di collaborazione continua che porti ad un sistema unico, all'unione dei comuni e quindi ad un'aggiunta del territorio. L'Alto Sangro e la Valle Peligna devono ragionare nello stesso modo, ha detto il sindaco di Sulmona Peppino Radalli. Penso che la giostra cavalleresca di luglio possa rappresentare il primo banco di prova per l'avvio concreto del progetto. Un comune ed un territorio importante come Roccaraso non possono guardare soltanto a Sulmona per allargare le proprie potenzialità, ha detto il primo cittadino di Roccaraso, Francesco Di Donato. Cercheremo pertanto di unire le forze in un'ottica di intelligente programmazione che esalti le peculiarità dei due territori. Bisogna creare un sistema turistico sociale in grado di portare giovamento all'Abruzzo interno che deve puntare decisamente sulle proprie forze e sulle proprie capacità se non vuole restare indietro rispetto a territori turisticamente all'avanguardia.